Obedisci alla voce dell'uomo. Sarebbe... giusta. È la voce di Dio. Ora, ora tutto è perduto. Ma che cosa è perduto? Non chiedere, pensa a fuggire. Perché un'accusa insignificante potrebbe farmi precipitare. Mi ha vizzato contro le piatte della discordia. Ma chi vuole con me? Il suo colpo mirava la mia testa, ma sarà la vostra. Ma accadere! Quando la fiuma dell'angelo cade... Sceglie il sangue. Sceglie... Maria. Sceglie...